Un boato che squarcia la quiete della domenica mattina e la fuga con il bottino. Colpo esplosivo alla filiale della cassa rurale Valsugana e Tesino di Arten, dove una banda ha fatto saltare lo sportello Bancomat. L'azione criminale è stata messa a segno poco prima delle 5, quando è scattato l'allarme, e molti residenti della zona hanno sentito un forte boato. Sul posto hanno operato i carabinieri della stazione di Arsie e quelli del nucleo investigativo del comando di Belluno, coordinati dal comandante della compagnia di Feltre. Sono arrivati dei soggetti, dobbiamo ancora capire quanti erano, hanno spostato le telecamere e quindi hanno impedito poi il visuale successivo e quindi hanno inserito quella che viene comunemente definita una marmotta e fatto esplodere il Bancomat. Tutto nel giro di pochi minuti si è svolto. Professionisti? Sì, professionisti. Professionisti direi sulla stessa stregua di quelli di qualche anno fa, due anni fa, stesso periodo, in Viale Farra, Pedavena. Il bottino ipotizzabile, considerato che il Bancomat viene caricato il venerdì pomeriggio per tutto il weekend, è attorno ai 20-30 mila euro. Al momento dell'esplosione i cinesi che abitano sopra la filiale non erano in casa. Il proprietario dello stabile è stato svegliato da una telefonata, scoprendo l'accaduto con suo sommo sbigottimento. Mi ha chiamato che ero ancora a casa e praticamente mi hanno detto che era scoppiata una bomba sotto la banca e sono corso qui a vedere cosa era successo. Una cosa veramente anomala, anche perché nessuno se lo aspettava. Negli ultimi 15 anni le due filiali bancari della piccola frazione di Arten, oggi ne rimane solo una, sono state oggetto in altre due occasioni dell'attenzione di ladri e rapinatori, forse attirati anche dalla relativa vicinanza allo svincolo per la Valsugana.